Shaul Paolo, nativo di Tarso in Cilicia, nella Turchia Meridionale, secondo alcuni nel periodo fra il 5 e il 10 d.C., è stato, nella realtà dei fatti, il vero fondatore del cristianesimo, dove, per cristianesimo, si intende la religione extra-giudaica che oggi è rappresentata dalla Chiesa di Roma e dalle scritture del Nuovo Testamento, nonché dalle varie chiese ortodosse e dalle tante organizzazioni protestanti. Qui, per motivi di semplicità, lo chiameremo sempre Paolo, ovvero sia col nome romano che egli stesso adottò, anche in considerazione del fatto che godeva della cittadinanza romana. Notizie biografiche serie e storicamente attendibili su di lui non ce ne sono. Le fonti principali per comprendere il suo operato sono tutte nel Nuovo Testamento e sono costituite dalle sue lettere e dagli atti degli apostoli, cioè da scritti religiosi apologetici che sono intenzionati a offrire una versione dei fatti parziale e interessata. In particolare dobbiamo riconoscere che il libro degli atti degli apostoli è stato concepito appositamente per offrire un'interpretazione pilotata, finalizzata a dare l'impressione ingannevole che Paolo abbia saputo rappresentare il messaggio di Gesù operando una grande diffusione della catechesi in diversi paesi sparsi per il Mediterraneo, meglio degli stessi apostoli che lo avevano conosciuto e lo avevano seguito personalmente. La prima affermazione che dobbiamo fare su Paolo è senz'altro questa, e gli non conobbe mai Gesù di persona, non ebbe mai modo di incontrarlo quando era ancora in vita. E infatti non si parla mai di Paolo da nessuna parte fin tanto che Gesù era in vita. La prima comparsa di Paolo nel racconto degli atti si ha in occasione della lapidazione di Stefano raccontata in un passo degli atti degli apostoli in cui si dice per esempio che i testimoni dell'esecuzione deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E più in là, detto questo Stefano morì, Saulo era fra coloro che approvavano la sua uccisione. Insomma non si sa esattamente chi fosse, non si sa cosa facesse, non si sa perché dovesse custodire i mantelli dei testimoni, anche se in realtà si capisce benissimo che era fra quelli che hanno giustiziato Stefano in quanto seguace di Gesù. Era cioè un ebreo contrario all'ideologia nazarena che considerava pericolosa e degna di essere repressa, sempre dagli atti degli apostoli. Saulo intanto infuriava contro la chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. La qualcosa mostra quanto egli fosse investito di autorità valida per effettuare azioni di polizia. Di quale chiesa si parla in questo passo? Ovviamente della cosiddetta chiesa di Gerusalemme, che è la comunità nazarena costituita principalmente dai fratelli e discepoli di Gesù, riunitisi sotto l'autorità di Giacomo, anche lui fratello di Gesù, detto il minore o il giusto. A un certo punto della sua vita, Paolo deve essersi reso conto che la repressione dell'ideale javista, tipico degli essiano zeloti, non era una strategia sufficiente per spegnere gli ardori dei messianisti, organizzati in sette più o meno segrete sparse per tutto il paese e pronti a rimettersi in attività dopo ogni insuccesso. In particolare la famiglia Gamaliota dei discendenti di Ezechia e di Giuda e il Galileo non si sarebbe mai fermata e avrebbe portato avanti il progetto messianico fino alla morte. Paolo doveva aver capito che esistevano complicità e fiancheggiamenti a favore dei messianisti perfino all'interno dei palazzi del potere e fu così indotto ad una profonda riflessione dall'osservazione dei patrioti risoluti che affrontavano qualunque pericolo per la liberazione di Israele in nome del suo Dio. Pertanto dovete arrivare alla conclusione che una simile forza ideologica e psicologica che costituiva un valore elevato e nobile nell'animo del popolo ebreo potesse essere combattuta efficacemente solo contrapponendole un'ideologia altrettanto elevata e nobile ma con finalità diverse da quelle della lotta violenta e frontale contro il nemico invasore. In questo fatto noi dobbiamo riconoscere il primo motore della grande revisione che ha trasformato la figura storica di Gesù in quella del pacifico figlio di Dio. Paolo era un uomo nato in ambiente promiscuo abituato alla convivenza con i gentili che lavorava per loro fornendo tendaggi alle legioni romane. Non aveva l'educazione e la visione del mondo che potevano avere quegli ebrei palestinesi che avevano visto arrivare i romani come padroni stranieri i quali usurpavano la terra, offendevano le leggi locali, esigevano pesanti tasse e tenevano il popolo sotto il gioco della spada e della croce arrivando addirittura a eleggere reucci dell'odiata famiglia erodiana e scegliendo i sommi sacerdoti che facessero loro comodo. Per non parlare poi dei procuratori romani che facevano sentire i giudei come autentici sudditi dell'imperatore. Paolo era cresciuto fuori della palestina e trovava assolutamente normale la convivenza con genti e culti diversi nonché la sottomissione al potere imperiale. Paolo era cittadino romano, era ebreo ed era romano e queste due anime dovevano trovare una conciliazione. In tutto il mediterraneo orientale così come in medio oriente e in un oriente lontano erano presenti da secoli se non da millenni teologie della salvezza legate all'idea di un salvatore che avrebbe sconfitto il male per realizzare il trionfo del bene. Nell'ambito ellenistico era il soter, in quello persiano era il saoshiant, in quello indiano erano krishna o buddha. C'erano poi quelle religioni che noi chiamiamo misteriche che promettevano la salvezza attraverso una serie di riti e pratiche che richiedevano un'iniziazione ed erano riservati a pochi eletti. Parliamo dei misteri eleusini, Demetra e Persephone, dei culti di Dioniso, Orfeo, Iside e Osiride, Mitra eccetera. Paolo deve aver subito una forte influenza da parte di queste concezioni che rispetto all'ebraismo erano libere da un elemento pesante, l'esasperato senso nazional religioso che faceva sentire i figli di Abramo come un popolo eletto, promuoveva un sentimento xenofobo e alimentava le ideologie di riscatto collettivo e politico. Paolo probabilmente nel profondo di sé non nutriva disprezzo per i patrioti nazionali religiosi del suo popolo, intuendo che le loro idee e il loro operato proponevano un pericoloso utopismo che avrebbe comunque portato il paese a una catastrofe, come effettivamente avvenne nel 70 d.C., suggestionato dai tanti e diversi esempi di teologia della salvezza con cui aveva avuto contatto, ebbe l'ispirazione di concepire una visione escatologica rivolta piuttosto alla sfera individuale e spirituale che non a quella etnica e politica. Colpito forse da vicende come quella di Stefano, che davano un esempio di forza morale capace di portare con esitazione, senza esitazione, al sacrificio della vita, volle eseguire una conversione di concetti e di obiettivi nell'ambito dell'escatologia messianica, tentando di spoliticizzarla, di mitigarne la componente nazionalista e xenofoba, di arricchirla con un'attenzione rivolta più al rapporto personale fra l'individuo e l'entità divina, che non al rapporto collettivo fra il popolo e l'entità divina. Una speranza messianica che promettesse la salvezza non in quanto ebreo, devoto e ligio, ma in quanto essere umano, che, al di là della sua connotazione etnica e culturale, avesse accettato un nuovo rapporto col creatore e col suo ambasciatore terreno, il Messia figlio di Dio, che avrebbe sacrificato se stesso e avrebbe portato il messaggio della vita eterna attraverso la risurrezione. Nel pensare questo, forse Paolo non intendeva creare un'alternativa esterna al giudaismo. Non ha subito concepito la sua idea come un'altra religione, da contrapporre alla religione dei padri. È stata la storia che, successivamente, in seguito alla larga diffusione della sua predicazione in ambito gentile nell'area mediterranea, ma soprattutto in seguito alle conseguenze della terribile guerra degli anni 66-70, avrebbe posto questa nuova dottrina nelle condizioni di dover eseguire una separazione, un allontanamento dalla matrice giudaica, addirittura di svilupparsi in contrapposizione all'ebraismo di cui Gesù era sempre stato un rappresentante fedele, se non un estremista e integradista. Ed è stata soprattutto la redazione evangelica che, dopo la scomparsa di Paolo, ha contribuito in modo determinante alla scissione dal giudaismo. Mi riferisco alla redazione di quelli che oggi sono i Vangeli canonici, perché in realtà esistevano già i Vangeli giudeo-cristiani, degli ebioniti, dei nazarei, degli ebrei, nei quali Paolo era chiaramente rappresentato come nemico e apostata della legge. Ma torniamo alla conversione di cui stavamo parlando. Paolo tentò di convertire il messianismo javista in un messianismo universalista. E questa conversione è tradizionalmente rappresentata in modo accorto e artificiale nelle scritture del Nuovo Testamento, come se fosse stata la conversione personale di Paolo al cristianesimo, senza però considerare che egli non ha mai aderito al cristianesimo nazoreo, nazareno. Anzi, così come prima l'ha combattuto con metodi di polizia, dopo l'ha combattuto con metodi ideologici e teologici. E secondo un procedimento sostanzialmente mistificatorio, che è quello degli atti degli apostoli, cercando in tutti i modi di mostrare che il cristianesimo, quello autentico, quello che è voluto da Gesù, era il suo. Naturalmente quello che ci dicono gli atti della conversione sulla via di Damasco è semplicemente un accorgimento ideologico e letterario, che però Paolo ebbe la forza di sostenere con la massima determinazione. Per esempio nella lettera ai Galati, lui afferma Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Come dire, a me mi ha scelto direttamente Gesù. E ancora nella lettera ai Corinzi, Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Insomma, sembra che Gesù avesse sbagliato a scegliere con gli apostoli e che Dio ha posto rimedio a questo errore decidendo che a un certo punto l'apostolo vero, l'apostolo principale, avrebbe dovuto essere Paolo, che Gesù non l'aveva mai conosciuto. Ciò nonostante a un certo punto Paolo cercò di contattare i membri della Chiesa di Gerusalemme, ma l'esito fu alquanto negativo. Si trattò complessivamente di una breve visita della durata di 15 giorni, quando già erano passati ben tre anni dalla sua presunta conversione, un tempo nel quale aveva avuto occasione di elaborare le idee della predicazione cristiana in un modo molto personale e molto indipendente. Molti anni dopo, quando Paolo risiedeva ad Antiochia, dove si era sviluppata una grossa comunità cristiana, sorse una pesante disputa sulla questione della circoncisione. Nel racconto degli Atti degli Apostoli si tratta di quello che normalmente è definito il primo concilio di Gerusalemme, avvenuto probabilmente intorno all'anno 50 d.C. In questa circostanza si sarebbe discusso della necessità che i gentili fossero circoncisi per poter essere ammessi nella comunità. Il racconto assolutamente mistificatorio è falso degli atti, giunge ad una ridicola conclusione, facendo prevalere l'idea dell'inopportunità della circoncisione dei gentili, che sarebbe stata dichiarata ufficialmente dallo stesso Giacomo, fratello di Gesù, quando noi sappiamo benissimo che costui era un rappresentante intransigente della concezione nazarena, affine alle idee degli essenozeloti e che mai avrebbe potuto sopportare un fatto così contrario alla legge della Torah. Del resto lo scopo ultimo degli Atti era proprio quello di legittimare la predicazione paolina, facendola apparire come una continuazione logica di quella degli apostoli giudei e dando l'impressione che la dottrina di Paolo fosse la stessa di Gesù. Gli Atti si pongono come il velo che intendeva nascondere l'esistenza di un contrasto inconciliabile fra le due diverse predicazioni. A conferma dell'esistenza di contrasti insanabili e violenti, Paolo nelle sue lettere esortava con impeto a non allontanarsi dal suo insegnamento, dichiarando che qualunque altro insegnamento, anche solo leggermente divergente, era falso, come leggiamo per esempio nella lettera ai Galati e anche nella lettera ai Corinzi. Ma qual è dunque il Cristo di Paolo? A questa domanda dobbiamo innanzitutto rispondere che si tratta di una individualità totalmente scollegata dal Gesù in carne ed ossa della storia. Paolo mostrava un'autentica repulsione rispetto al fatto di ricordare il Gesù della storia, ma la spiegazione è semplice. Il suo Gesù era una creazione del tutto libera, partorita dalla sua mente che, non di rado, rovesciava la personalità storica facendone l'opposto speculare. Il Cristo di Paolo era sostanzialmente il figlio di Dio che si incarnava in spoglie umane e attraverso la crocifissione compiva il sacrificio di se stesso prendendo sulle proprie spalle tutti i peccati degli uomini. Quindi risuscitava mostrando il più alto dei poteri, quello sulla vita e sulla morte, e promettendo a tutti gli esseri umani la resurrezione e la vita eterna. Il Cristo di Paolo era quello che avrebbe invitato i suoi discepoli a mangiare la sua carne e bere il suo sangue, istituendo così l'eucaristia teofagica. Che questa concezione eucaristica abbia una derivazione al di fuori dell'ambito ebraico, dai culti pagani del Mediterraneo, è mostrato dal fatto che esistevano numerosi riti teofagici sparsi in differenti aree e riguardanti diverse divinità, come ci è mostrato dagli studi per esempio di Frazer, che parla di Dioniso, di Tammuz, di Adonis, di altri dei, nei confronti dei quali si esegueva un rito che aveva delle somiglianze con l'eucaristia cristiana. Nel caso di Dioniso, il Dio assumeva una forma animale, toro o capra che sia, e l'adepto mangiava la sua carne e beveva il suo sangue, ritenendo con ciò di cibarsi della carne e del sangue del Dio. Per molti altri aspetti, il nostro Signor Gesù Cristo di Paolo non era ancora quello evangelico. Per esempio, non esiste nell'Epistolario Paolino alcuna aneddotica relativa agli atti di Gesù. Non esiste una nascita virginale, non esistono i genitori, non esiste una presunta città di nascita, Betlemme, e nemmeno una presunta città di residenza, Nazareth. San Paolo non le conosce né l'una né l'altra. E il racconto degli atti degli apostoli si conclude con l'arresto di Paolo, che rischiò di essere giudicato dagli ebrei per gravissime colpe e condannato a morte. In conseguenza di ciò, Paolo fece ricorso alla sua cittadinanza romana e rivendicò il diritto di essere giudicato da un tribunale romano. A Roma si concluse misteriosamente la sua vita, forse fu giustiziato nel corso della repressione neroniana. Le ultime parole degli atti contengono una forte connotazione antisemita, dichiarando che i giudei della comunità romana furono sordi alle parole di Paolo che predicava Gesù Cristo. Ma in questo modo gli atti mostrano di essere già il documento di una fede che ha preso serie distanze dall'ebraismo e che si impegna a definire gli ebrei come ostinati nel non aver voluto accogliere il messaggio di Gesù Cristo. L'atteggiamento sarà presente anche nel corso della redazione evangelica, dove, a quanto abbiamo visto, si giungerà l'impegno insistente a mostrare gli ebrei come colpevoli della morte di Gesù. E questa colpa, nel racconto soprattutto del Vangelo di Matteo, non riguarda solo le autorità giudaiche, il che sarebbe già stato sufficiente per i fini di Marco, il quale, a seguito dell'ostilità profonda verso gli ebrei che il popolo romano aveva maturato in conseguenza della guerra degli anni 66-70, voleva per prima cosa dimostrare l'innocenza di Gesù rispetto alla legge romana e la sua totale estraneità a quel messianismo javista che tanta energia aveva profuso nel combattere il potere imperiale. Marco, nella descrizione del processo di fronte a Pilato, volle dipingere gli ebrei tutti come popolo accomunati da questa infamia. E Matteo, con la famosa automaledizione, quella in cui gli ebrei pronunciano di fronte a Pilato, il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli, Matteo, con questa automaledizione, gli ha dato manforte, contribuendo così ad aprire una sciagurata persecuzione antisemita destinata a protrarsi per lunghi secoli fino ai giorni della storia recente, della quale la responsabilità cristiana è assolutamente inequivocabile.